Allora, questi tre punti non vogliono proprio arrivare, ma secondo voi come è andata questa partita? Nel senso che purtroppo non riusciamo ad avere buona sottolinea, perché alcune partite purtroppo giochiamo bene, ma questa purtroppo non è andata bene, non eravamo coordinati in campo e speriamo che una vittoria possa arrivare. Rispetto all'ultima volta comunque al giro di andata, la difesa è funzionata molto di più, forse c'è stato un po' di problema sotto rete, non tanta convinzione? Sì, abbiamo fatto molto fatica alla recensione soprattutto, arrivavano le palle troppo attaccate alla rete, quindi facevamo anche molta difficoltà ad attaccare. E nonostante la classifica, com'è l'umore in spogliatoio? Ma non c'è male, c'è sempre la speranza che si possa vincere una partita, quindi dai, il peggio di così non si può fare. Va bene, grazie, bocca al lume!